Ah, dei giami, sì. Quello è vero. Non usiamo ancora due? Eh, vediamo, sì. Faccio un video in Instagram. Non lo farò così. Faccio una fotocamera, poi ritagli, vedi che ci sbacca. Sì, lo so, lo so. Ritagli di ceniciloni, se è vostro. Allora, allora. Metti una musichetta di tendenza, spare a 30.000 views nel video di Motoclave e ti metti 4.000 iscritti in due giorni. Fai una tirata dai, questo. Mangi? F*** la Pagliaide. Prossima, prossima. Prossima, prossima. No, sono lento stasera, fai tranquillo, sono lento, no, facciamo il video, tre mosche in velocità, così facciamo prendere paura, allora, sono andati in Austria a fare radullo dell'IFTA, avevo là una persona che conosco io dal Castello di Sangro, che voleva andare a pescare sulla mura il giorno dopo, io dovevo fare la gara perché mi è accostato a fare la gara, sono impiegato meno di dieci minuti a consegnare le due mosche e poi fa tutta la sera a fare quello là che doveva andare. Saluta il pubblico. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come vedete ? E' bella response si fa e aspetta ora. Quella rosa è via? No. Pernice. Ah, ok. La pezzi in pernice, faccio di solito. No. Un po' il picco. Poi interrompi qua. Car sento. Poi le mosche sono come la moda Un anno vanno una mosca, un anno dopo ne vanno un'altra Un anno l'anno anticipato Ma poi nel 2022 quando la fanno? Fanno le robe Io sono un conservatore, uso sempre quelle No, no, no C'è qualche ricenza, parli che c'era un solo concessione Con Maser 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 Thailandia E in Nepal Matteo Ma vero c'è qualche terra armata? Sì Quando c'è? 13-14 13-14 Sì, ma dichiarmi Ebraio Ebraio 22 Sì, 22 22 Sì, l'ultima volta che ci dovevo andare Non sono partito Sì, però sabato me l'hai fatta diversa Te l'ho fatto con le Sì, ma è la Verdina, non era questa No, la Verdina era proprio quella Verdina piccolina No, la Verdina è quella fatta con la schiena verde Ah, ecco E invece l'azzurra Quella azzurra a quella fine L'azzurra la chiamo Sì Se vuoi ti faccio la Verdina No, no, la Verdina lo siamo fatta Adesso intanto ho visto questa Io questa qua ci faccio sempre a spettino Sì, dopo puoi fare quello che vuoi No, perché questa è nata così No, no, la Verdina è stata fatta di